Per mettere in vivo, anche se siamo già online. Bene. Buonasera a tutti. Buonasera a sorelle. Buonasera a tutti. Ce la farò, non interrompere più del dovuto. Siamo live su YouTube. Io mi presento, sono Laura, una delle volontarie del gruppo Essere in Coerenza, che è un gruppo spontaneo che si occupa appunto di coerenza cardiaca. Noi pratichiamo tutti i giorni la coerenza cardiaca, che è questa pratica di stampo meditativo, che va a lavorare sulla variabilità cardiaca. per promuovere tutta una serie di benefici nella nostra vita, a partire dal nostro fisico, le nostre emozioni e, in realtà, la nostra consapevolezza. E questo è un po' il trend che abbiamo scelto per chiedere al professore di unirsi a noi questa sera. un paio di piccole cose. Ci saranno degli altri volontari che controlleranno le domande da YouTube. Io adesso chiederò un feedback. Eccoci, sì, siamo live. Sono andata a controllare anch'io, perfetto. Che controlleranno appunto i messaggi su YouTube ed è solo da YouTube che riceveremo, riceveranno i miei fantastici aiutanti tipo Elfi di Babbo Natale, le domande, perché con il professore abbiamo chiesto e accettato di fare anche un piccolo suo di domande alla fine dell'intervento. Non mi sembra. Quindi, per favore, non scrivete sul gruppo Telegram perché non riusciremo a vedere anche quello. Ok. Se lei è d'accordo, io comincerei. Sì, signore. Grazie. E le chiederei un piccolo abstract di nuovo sul TCT e sul perché è così importante farlo e perché è importante acquisire consapevolezza soprattutto adesso. Sì, dunque, il Triade Color Test nasce da una mia esigenza, ma come sempre tutte le cose che faccio, e la mia esigenza era non essere più sovraccaricato dal mettere in ipnosi almeno 2-3 milioni di italiani, cosa che sarebbe successa perché il problema delle adduzioni, cioè di quel fenomeno che io studiavo in lo tempore e che ora da più di dieci anni non studio più, cioè il fenomeno di coloro che dicono di aver avuto delle problematiche con l'alieno che viene a prenderli, se li porta da un'altra parte, li opera, li riporta, insomma, cose tremende, io gli facevo recuperare la memoria con delle ipnosi regressive. Non potevo fare questo su tutti gli italiani e allora dovevo trovare un sistema per cui gli italiani in qualche modo da soli riuscissero a cavarsela. Quindi dovevo inventare qualcosa per cui loro potessero entrare in uno stato che oggi potremmo definire meditativo e vedremo poi perché, ma che sarebbe stato uno stato per cui in una specie di autoipnosi potessero ricordare, riacquisire i ricordi della loro adduzione e porci rimedio. Mi invento questa cosa e scopro subito dopo, ma quasi subito dopo, che questa cosa era andata oltre le mie previsioni, cioè serviva sostanzialmente a vedere dentro di sé, a capire chi si è, a comprendere sostanzialmente una vasta gamma di problematiche anche psicoanalitiche, psicologiche, che uno ha, al di là del problema dell'adduzione. Quindi nasce come questo. È un po' come il problema della NASA quando loro dicono di essere andati sulla Luna, concediamolo per 45 secondi, il problema è che la NASA ha sviluppato una serie di tecnologie che poi, quando sono stati licenziati 2.000 inservienti della NASA, questi 2.000 ingegneri sono stati riversati sul mercato e hanno postruito delle meravigliose lavatrici. Ecco, invece, però il problema era, una volta era andare sulla Luna e in realtà poi si era rivelato, abbiamo risolto degli altri problemi tecnologici. Ecco, io cercavo di sviluppare il problema alienologico e mi sono reso conto che potevo invece produrre degli effetti notevoli su quella cosa che si chiama coscienza, cioè un guardarsi dentro di sé. È evidente, da un punto di vista tecnologico questa cosa è legata a tre o quattro fattori importanti. Non è che io la mattina mi sono svegliato e ho inventato questo sistema. Ci ho pensato vent'anni e in questi vent'anni ho messo a posto questo sistema che si basa su una meditazione che in realtà io chiamo simulazione mentale per dargli un'accezione più ampia tutto lì che si basa su tre o quattro cose importantissime che sono uno, il test dei colori di Max Luscher. Max Luscher era un psichiatra svizzero che mi sembra nel 1925 ancora non era laureato si inventa un sistema per fare un test proiettivo della personalità. Ti do cinque carte colorate me le metti in ordine di quel colore che ti piace di più. Questo banale test faceva comprendere la personalità del soggetto. Il test poi il nostro test la nostra meditazione mentale oltre che sul test dei colori di Max Luscher si basa sulla croce degli spazi di Pulfer. Pulfer era un grafologo siamo nel 1921 grafologo che studiava il carattere dei bambini le psicoproblematiche dei bambini piccoli. Siccome non è che il bambino piccolo lo puoi portare dallo psicologo una volta non lo si faceva oggi lo si fa perché gli psicologi non capiscono più una mazza ma questo era un altro problema si era inventato un sistema cioè un foglio di carta fai conto a quattro lo dividi in quattro settori e gli fai disegnare al bambino delle cose a secondo che il bambino disegni in alto in basso a destra e a sinistra cioè che gestisca lo spazio visuale ecco che si comprendono molte cose Pulfer è il baluardo fondamentale della nuova grafologia scientifica. Poi mi sono basato sullo psicodramma di Moreno Moreno è uno psicoanalista dell'est che si è inventato un sistema molto semplice prendeva i bambini piccoli e questa è una cosa interessante noi lavoriamo con i bambini piccoli perché loro non sono ancora andati a scuola quindi non sono ancora diventati cretini sono veramente soggetti che sono in grado di comprendere le cose non come gliel'hanno insegnate cioè nel modo sbagliate ma come spontaneamente hanno l'idea che sia bambini piccoli i quali per esempio si prendono cinque o sei bambini gli si racconta la storia di Nerone che ne so che ha bruciato Roma c'era la sua moglie i suoi figli i soldati i romani e a ognuno gli si dà un ruolo e i bambini piccoli dopo aver sentito la storia cominciano a recitare questo ruolo dopo cinque minuti il bambino smette di recitare il ruolo che gli è stato assegnato e comincia a recitare il suo è meraviglioso e poi per ultimo il nostro approccio si basa sulla quantistica cromodinamica cioè sull'assegnare dei colori che sono parte fondamentale del test a delle geometrie che sono nel nostro cervello vedremo poi fra un attimo e questo ci permette di comprendere come il soggetto si correla con l'esterno questo lo direbbe Jung pensate che i moderni psicoanalisti considerano la coscienza come una misurazione dei nostri sensi cioè la coscienza è quanto riesco a capire strusciando una cosa per sentire che è opaca o che è ruvida come vedo i colori come sento bene questa è la coscienza loro credono che la coscienza sia il modo con i quali i nostri sensi ci permettono di correlarci all'esterno no la nostra coscienza è un'altra cosa la nostra coscienza è una cosa che noi abbiamo all'interno che serve per correlarci all'interno ma su tre parametri fondamentali che sono l'asse dello spazio l'asse del tempo e l'asse dell'energia che è l'unica cosa le uniche tre cose che descrivono l'universo sono tre molto semplici dopo tanti anni di ipnosi più di vent'anni io avevo capito un pochino come funzionava il cervello umano e mi ero reso conto che il cervello umano era un lettore di ologrammi oh non l'ho inventata io questa cosa il lettore di ologrammi l'ha inventato Pribram che era un neurofisiologo che ci ha scritto una ventina di lavori e un paio di libri Pribram cercava la memoria dov'è nel cervello e allora sapete cosa faceva prendeva poverini dei topolini e gli insegnava a trovare il percorso nel labirinto il formaggio in fondo poi cominciava a staccargli dei pezzi di cervello per vedere se il topolino ancora si ricordava queste cose praticamente come Mario Draghi ha tentato di fare durante l'ultimo suo governo con gli italiani e cosa si scopre si scopre che nonostante tutto gli italiani in quel caso i topolini vanno sempre a trovare il formaggio e ne deduce che la memoria non sta nel cervello ma dov'è allora e lì interviene il fisico quantistico il quale dice sostanzialmente in questo caso era bomb ma potrei dire anche Alan Aspect che ha vinto tre mesi fa il premio Nobel proprio su questo argomento che l'universo è un ologramma sostanzialmente è finto finto nel senso che noi crediamo di vedere una cosa il nostro cervello che è un lettore di ologrammi legge l'ologramma e lo legge nello stesso modo dell'universo perché? perché l'universo è basato su dei numeri che sono delle grandezze particolari dei numeri precisi che sono sostanzialmente i numeri irrazionali come pi greco come il numero di eulero come la radice di due che però sono anche numeri trascendenti i matematici chiamano trascendenti pensate perché trascendono anche l'idea possibile ma perché pi greco è un numero infinito con tante cifre che noi non sappiamo se finisce o no ecco è una cosa trascendente ecco in quel contesto il nostro cervello si scopriva su lavori scientifici che aveva la stessa struttura geometrica dell'universo allora questo cosa voleva dire? che noi potevamo immaginarci nella nostra testa qualcosa sotto forma di geometria e questa geometria sarebbe stata il modo con cui noi percepiamo l'universo bene detto questo il test era molto semplice si dividiva in tre al massimo quattro fasi triade color test statico poi dinamico poi flash che vuol dire? il triade color test statico dura un minuto e mezzo e ti dice senza possibilità di errore alcuno neanche interpretativo quindi non si possono fare errori di interpretazione come fa lo psicologo ti dà un test che potrebbe essere il rorschach poi lo deve interpretare ecco il triade color test non è interpretabile è così e basta il triade color test ti dice immaginati una stanza completamente vuota e completamente buia la tua stanza mentale questa stanza mentale è buia perché tu hai spento la luce la stanza è la tua te puoi farci quello che vuoi in questa stanza buia che devi vedere bene guarda destra e sinistra gli si dice al soggetto a volte non fosse buia guarda bene se ci fossero altre luci che non ci dovrebbero essere se ci sono le tieni lì ma ti dico la stanza è buia tu hai spento la luce se ci sono altre luci quelle luci lì non sono roba tua punto e poi sai che in questa stanza ci sono tre lampade che te all'inizio non vedi perché sono spente ti dico come sono queste lampade queste lampade sono come delle sfere queste sfere quando le accenderemo perché le accendiamo dopo le potrai vedere ma prima no perché sono spente accendiamo la prima lampada si conta fino a tre e si accende la prima lampada che è la lampada che rappresenta la tua mente fottitene di sapere che cos'è la mente si accende la tua mente e tu vedrai una sfera che si accende e questa sfera che si accende guardi che colore ha che posizione ha che grandezza ha se riflette la luce se è opaca che risolvi e la metti da qualche parte cioè lei si apparirà in qualche posto della tua stanza colchiamo fino a tre e accendiamo la seconda lampada che è la lampada che rappresenta il tuo spirito fottitene di cosa è lo spirito lo spirito vediamo cosa succede si accende una lampada con le stesse caratteristiche vediamo se è grande se è piccola se è lontana se è vicina se è alta dal pavimento se è bassa e la teniamo lì poi accendiamo l'ultima lampada che è la lampada dell'anima è la rappresentazione della tua parte animica e andiamo avanti così la rappresentazione della tua parte animica guardi queste tre lampade le fotografi e questo è il triade color test statico in quell'istante noi siamo in grado sapendo questi risultati di identificare il soggetto come si rappresenta con l'ambiente perché ciò accade quali sono le sue eventuali deficienze di rapporto con l'ambiente sulla base della grandezza della posizione e del colore delle tre lampade ora perché questo accade prima di passare alla seconda parte del test questo accade perché noi secondo il mio modesto punto di vista siamo i creatori dell'universo noi abbiamo creato l'universo o meglio diciamolo in modo più semplice dentro di noi ci sono tutte le strutture matematiche fisiche geometriche dell'universo perché noi siamo parte dell'universo quindi se l'universo è fatto in un certo modo e noi siamo contenuti nell'universo il nostro cervello legge l'universo con le stesse capacità geometriche dell'universo stesso quindi è come se noi fossimo i creatori dell'universo in quel contesto noi sappiamo che i colori vogliono dire delle cose le posizioni vogliono dire delle cose le sensazioni vogliono dire delle cose archetipiche talmente profonde in cui noi non abbiamo consapevolezza ma se sappiamo interpretarle bene ecco che sappiamo anche cosa vogliono dire ora le tre lampade che noi abbiamo sostanzialmente davanti in una persona normale dovrebbero apparire così la lampada verde che rappresenta la mente che è sempre verde qua davanti perché verde? perché il verde è il colore della mente è il colore dell'acqua pensate rossa noi la vediamo sulla destra davanti a noi è la rappresentazione dello spirito del calore del come si dice del fuoco il secondo elemento vedete acqua fuoco e la terza lampada che compare sulla nostra sinistra è la lampada blu o a volte gialla che rappresenta la tua parte animica che è il colore dell'aria il blu la parte animica è l'anemos l'anemometro è il misuratore del vento nei sogni l'anima è sempre un twister è sempre qualcosa che ha a che fare col vento mentre lo spirito è qualcosa come il fuoco che scende dal cielo mentre l'onda che molti sognano oggi che travolge l'umanità è la mente che non è più in grado di comprendere che cosa sta succedendo alla nostra società e viene vista nel sogno come una un'onda distruttrice così come nel sogno così come nel triade color test così come nell'antico mito l'aria l'acqua e il fuoco sono quegli elementi che con il quarto elemento la terra cioè il corpo sono quelli proiettati all'interno di un triade color test in quel contesto noi possiamo parlare con le nostre tre parti le abbiamo separate e in quel contesto si scopre una cosa interessante che le tre parti fanno quello che vogliono loro non quello che vogliano cioè prova a cambiare il colore di una di queste tre sfere contro la loro volontà non ci riuscirai mai provare per credere perché le sfere hanno una loro coscienza una loro volontà sono tre parti di consapevolezza e di coscienza che solo quando si accendono tu acquisisci consapevolezza di loro ma loro acquisiscono consapevolezza di esistere non solo ma acquisiscono anche la consapevolezza di vedere ognuna le altre due pallette la parte spirituale e la parte mentale il giochino nasceva dal fatto che in ipnosi quando facevamo le ipnosi queste tre parti venivano fuori un'anima una mente uno spirito sono tre nomi convenzionali ma sono tre parti di noi la parte animica poi corrisponde al femminile al lobo destro del cervello la parte spirituale al maschile alla parte sinistra del cervello la mente alla parte androgina al corpo calloso se volete dirla così ma non solo la parte animica corrisponde all'asse del tempo corrisponde alla sensazione dell'udito la parte spirituale corrisponde all'asse dello spazio alla vista e la parte e la parte mentale che è androgina corrisponde alla parte cenestesica cioè a come si sentono le sensazioni e alla energia energia tempo spazio sono quei tre vettori che a 90 gradi il nostro cervello usa per rappresentare l'universo questa cosa noi ce ne eravamo resi conto quando studiavamo la programmazione neurolinguistica avete mai visto due persone che si incontrano per la strada e tutte e due in uno stretto passaggio si girano per passare tutte e due vanno a destra oppure tutte e due vanno a sinistra e stanno mezz'ora lì senza che nessuno riesca a passare per primo che significato ha questo il significato è che uno dei due è mancino ed essendo mancino il suo asse del tempo che non a caso è legato all'asse auditivo cioè al femminile è su questa direzione quindi lo spostarsi in questo modo prevede che l'altro interpreti i tuoi micromovimenti correttamente invece l'altro che è mancino ha gli assi spostati cioè noi che io che non sono mancino vedo il passato a sinistra e credo di vedere se me lo rappresento il futuro a destra il mancino farà esattamente il contrario quindi quando un mancino e uno che non è mancino si incontrano quando uno si sposta è come se stesse dicendo all'altro spostati tu per primo e l'altro capisce che sei te che ti devi spostare per primo e non ci si capisce è come un gatto e un cane quando uno muove la coda il cane è felice il gatto è incazzato perché il cane è sostanzialmente auditivo e il gatto è sostanzialmente cenestesico per parlare con un gatto tu lo devi toccare devi fare il petting allora lui comprende le cose anche io ho visto dei filmati con i leoni i leoni li prendi da dietro e li spingi davanti perché se no il leone va dove vuole invece il cane gli devi urlare gli devi strillare e lui abbaia perché è così che si comporta cioè il cane è molto femminile mentre il gatto è sostanzialmente molto più mentale ecco diciamola così se vogliamo dirla tutta in quel contesto a un certo punto i colori che noi vediamo rappresentano delle vibrazioni sono vibrazioni che riguardano dei vettori per esempio perché la mente è verde è vero è verde perché noi abbiamo sempre pensato che l'acqua fosse inconsapevolmente il simbolo della mente mentre in realtà c'è qualcosa di più il colore verde è la rappresentazione di un asse che è l'asse dello spazio rosso un asse che è l'asse del tempo che noi vediamo blu nel nostro cervello lo vediamo blu perché Max Luscher ci dice così rosso e blu e l'asse dell'energia che dovrebbe essere verde non c'è cioè la mente non legge l'energia la mente prende solo tutte le informazioni dello spazio tutte le informazioni del tempo ma butta fuori tutte le informazioni dell'energia quindi la mente la sfera della mente è verde perché il colore è uno spettro di emissione analogosli la parte per esempio animica è blu perché c'ha un asse dell'energia verde un asse dello spazio rosso ma non ha l'asse blu del tempo quindi assorbe il rosso assorbe il verde ma butta fuori il blu quindi la parte animica è blu e così via si tratta quindi di vibrazioni il nostro cervello interpreta i colori come vibrazioni cioè come dice la quantistica cromodinamica delle cose geometriche con opportune simmetrie chi fa il test non si accorge di tutto questo non gliene può fregare però se fai fare un test a un giapponese o un guatemalteco te lo fa nello stesso identico modo in quell'istante tu comprendi che se la parte animica invece di essere blu è di un altro colore vuol dire che la parte animica funziona male cioè il tuo lobo destro ha qualche problema cioè la tua parte femminile il sé femminile si sta relazionando male per qualche misterioso motivo e tu comprendi a seconda del colore che tipo di problematica ha perché sai che quella problematica per quanto riguarda l'anima potrà essere o sull'asse dello spazio o sull'asse dell'energia perché sono i soli due assi colorati che possono produrre una variazione di colore sull'anima in quel contesto si lavora sui vettori colore e si comprende esattamente cosa succede ammettiamo per un attimo che le tre sfere siano del colore corretto ho incontrato ben poche persone normali in questo universo che hanno faccio un inciso sì chi ci ascolta può trovare anche molti casi e tantissime spiegazioni dei colori sia nel libro il la coscienza ritrovata sia in diverse conferenze per cui poi ognuno può andarsi a cercare quello che vede ora facciamo una spiegazione analogica certo certo queste tre sfere ci dobbiamo chiedere perché sono tre ma allora noi siamo fatti di tre cose perché le tre sfere possono parlare tra di loro se tu le fai parlare tra di loro e tu chiedi alla tua parte animica come mai invece di essere blu sei di un altro colore e la parte animica trova il modo di dirtelo sono di un altro colore perché sono in quel momento della mia vita io ho avuto un trauma e questo trauma mi ha prodotto questo colore allora tu comprendi che la parte animica va tra virgolette recuperata la devi far tornare del colore giusto sapete i psicoanalisti usano una tecnica che è molto simile e ti fanno sedere in una sedia ma ci sono altre due sedie nella sedia tu rappresenti te stesso nelle altre due sedie poi tu rappresenti il babbo e la mamma quando tu racconti la tua vita poi ti fa sedere sulla sedia del babbo e sulla sedia della mamma e ti fa raccontare da altri punti di vista la stessa storia di solito lo psicoanalista non sa che questa tecnica è uno scherzo è uno studio è un modus operandi della programmazione neurolinguistica la programmazione neurolinguistica dice sostanzialmente se non capisci bene una cosa cioè non hai chiara la fotografia del territorio che si chiama mappa non hai chiara la mappa del territorio l'unico modo per capirla bene è osservarla da un altro punto di vista mettiti cioè si direbbe noi nei panni di un altro mettiti nei panni del tuo nemico ragiona per un attimo come se fossi lui e vedrai da quel punto di vista una cosa la mappa del territorio che te non ti immaginavi nemmeno e forse tornando in te comprenderai molte più cose e forse comprenderai che quel tuo nemico non è un tuo nemico in realtà è la parte di te stesso che tu non vuoi accettare e questa è una cosa che a livello psicoanalitico bisognerebbe che la gente ci pensasse un attimo tre palle colorate perché sono tre sono tre perché nel mito nella fisica quantistica nei risultati che noi abbiamo ottenuto in 3500 allora ipnosi che abbiamo fatto su soggetti che abbiamo guardato nel cervello abbiamo scoperto che l'essere umano in realtà è fatto di tre coscienze le quali manco sanno l'una nell'altro la parte femminile è completamente staccata dalla parte maschile io sono maschio ma dentro di me c'ho una parte femminile e se non riesco a parlare con la mia parte femminile quello che faccio è che cerco tutti i giorni di correlarmi con le femmine che mi circondano e il risultato sarà schifoso perché io all'esterno produco creo inconsapevolmente una situation comedy che è la rappresentazione inconscia di quello che io ho detto e la produco fuori perché non ho bisogno di riprodurre fuori tutto quello che so di me io riproduco fuori solo la parte di me che io non conosco con la speranza coscienziale estremamente profonda che guardandola da fuori magari capisca la parte di me che non ho capito in quel contesto gli altri sono la parte di me sono me sono io sono sempre io questo nel triade color testo viene chiaro quando uno fa pace tra la parte maschile e la parte femminile in questo matrimonio alchemico che è la rappresentazione del matrimonio tra i due lobby il destro e il sinistro del nostro cervello succede il miracolo e qui comincia il triade color test dinamico quando noi cominciamo a dinamizzare la situazione e io dico al soggetto prendi una mano e mettila nella sfera dello spirito e ascolta senti ascolta se sei auditivo senti se sei cenestesico guarda se sei visivo cosa si percepisce dentro la sfera dello spirito caldo freddo aria fuoco marmo legno che ne so e così faccio e poi chiedo alla parte spirituale se si sente maschio o femmina e la risposta avviene immediatamente poi tiri fuori la mano la mano ha un significato avere un contatto diretto con una delle tue tre parti ripeti la stessa operazione con le altre tre con le altre due e poi cominci a parlare con queste parti e gli dici scusate ma te parti a linga lo conoscevi gli altri due e senti la risposta che è incredibile e tu sei d'accordo con siete d'accordo mi conoscevate sapevate di essere dentro un contenitore e qui vengono delle cose incredibili cioè c'è la descrizione dell'universo dei massimi sistemi che voi manco vi immaginate così scoprite che la parte animica sovente è una bambina piccola che non capisce neanche dov'è cos'è chi è non ha consapevolezza di sé e la parte spirituale comprendete che la maggior parte delle volte vuol fare lo sbruffone ah sono io che comando sono il maschio io sono il salvatore dell'universo sono colui che lei non mi dà mai retta ma io me ne frego e avete una mappa del territorio uguale alla società che ci circonda dove il maschile predomina e il femminile viene schiacciato sempre al 99% ho trovato casi del genere allora bisogna riequalizzare il sistema ecco perché il sistema è dinamico a questo punto perché si deve dire alla parte animica guarda è inutile che fai la principessa ti aspetti che ti salvi il principe azzurro perché il principe azzurro quando ti ha salvato come c'è scritto nella favola finisce per dirti bene ora che ti ho salvato vieni a lavare i piatti a casa mia e la principessa a quel punto nella storia non vuole e la principessa non vuole essere salvata e il salvamento la salvazione consiste nel flash cioè nella parte finale del test dove si chiede alle tre parti di riunificarsi come erano all'inizio dei tempi questa cosa sconvolgente che poi viene vista come cambiamento di colori perché il colore è una misura della simmetria dell'universo questa cosa sconvolgente non solo è descritta nel mito ed è il matrimonio tra la parte animica e la parte maschile un po' c'è in tutti i miti questa cosa dal mito greco alla alla valle dell'indo ad alcune oscure tematiche che si trovano nei vecchi testi dei Rosa Croce in cui Rosenkreuz personaggio mai esistito va è invitato secondo la storia a un matrimonio di sette giorni pensati sette giorni della creazione tra un principe e una principessa che rappresentano il maschile e il femminile di noi per ottenere quella che poi sarà la vita eterna allora siccome questo è veramente quello che è successo all'inizio del tempo cioè che la coscienza si è divisa in due coscienze e le due coscienze poi hanno dato origine a una terza palletta diciamola così che era il tradunion tra queste due cose perché sennò queste due pallette non si parlano tra di loro e potevano essere chiamati Shiva ed Isnu il diavolo e l'acqua santa il duale che noi viviamo le pallette si riuniscono in un'unica sfera quello che accade è che all'inizio le tre sfere si riuniscono e se sono una verde una rossa e una blu si ottiene per miracolo una sfera bianca ora vi posso assicurare che se io butto tre stimoli tre laser uno rosso uno blu e uno verde nello stesso punto le equazioni d'onda delle tre colori si sommano e l'equazione d'onda finale è la luce bianca ma il soggetto la quantistica non la sa allora come mai risponde esattamente con gli stessi colori della fisica quantistica perché te sei il creatore dell'universo te non lo sai di essere il creatore dell'universo e credi di dover studiare la fisica quantistica per ricordarti come hai costruito la tua creazione ma in realtà tu sei il creatore sai perfettamente come funziona anche l'ottica fisica inconsapevolmente la sfera luminosa diventa bianca cosa vuol dire vuol dire che le tre sfere si sono unite nello spazio e nel tempo ma non si sono unite fondendosi cioè in quello stesso punto spazio-temporale c'è tutte e tre le cose in quell'istante te devi chiedere alle tre sfere di fondersi insieme e nell'istante in cui la fusione accade cioè ci deve essere una sfera sola che chiamiamo coscienza integrata la sfera scompare nella tua mente tu non vedi più niente perché? perché la coscienza è tutto il tutto è la somma di tutti i colori perché ogni colore è una cosa che tu sei se sei tutto la realtà ti dice che il tutto è l'antitutto è il niente e tu non vedrai più niente fisicamente questo è quello che succede quando dovessi fare una mescola di tutti i colori non vedresti più nessun colore questo ti dice la fisica cromodinamica quantistica sostanzialmente che ragione ha di essere questo? questo ha ragione di essere perché quando tu torni a essere quello che eri prima cioè il creatore in quell'istante tu sei il tutto e l'antitutto insieme il soggetto produce questi fenomeni colorati inconsapevolmente sempre in the same way nello stesso modo questo vuol dire che tutti noi abbiamo dentro le stesse identiche istruzioni che sono le istruzioni che noi stessi ci siamo dati quando siamo venuti qui ci dobbiamo chiedere e poi finisco questa prima parte perché se no vado lungo perché ci sono tre sfere a che cosa è servita la coscienza che si è divisa in due e in questo discorso la tua parte animica o la tua coscienza alla fine del discorso ti può rispondere perché nell'istante in cui le tre sfere si sono unificate te in quell'istante sei la coscienza te ti ricordi esattamente com'è andato tutto basta chiederlo alla coscienza e cioè piano piano cominci a ricordare chi sei da dove sei venuto perché sei qui che cosa significa andare a votare ha un significato andare a votare io non te lo dico fatelo dire dalla tua coscienza quando hai fatto il giochino e poi scrivete tutte le domande nel vostro come si dice nel posto dove scrivete tutte le cose e scoprirete che tutte le più o meno con linguaggi diversi la vostra coscienza e le ha detto a tutti la stessa cosa è incredibile questa è la prova che il tiro dei color test ha una funzionabilità che è ripetibile in laboratorio siamo siamo tre siamo tre pallette soprattutto due perché la terza è un tre d'union tra tutte e due perché noi siamo venuti qui per imparare quello che non sapevamo noi siamo la coscienza la coscienza sa tutto tranne una cosa e cioè che cosa vuol dire essere in due e la coscienza è uno allora per essere completamente totalmente consapevole di sé la coscienza si divide in due per studiare tutte le modalità della diversità tutte le modalità della dualità tutte le modalità della separazione fateci caso noi siamo qui e siamo ossessionati da un unico identico problema per tutti la separazione la separazione dal denaro la separazione da un amico la separazione da un libro la separazione da una scuola la separazione da un luogo la separazione da un genitore due palle allucinanti e in quell'istante noi impariamo che cosa vuol dire essere due perché alla fine dell'universo noi tutti che torneremo a essere una cosa sola avremmo portato a casa la nostra consapevolezza e la coscienza potrà dire ho studiato tutta la separazione so che cos'è io sono il contrario è l'unico modo che la coscienza ha per sapere chi è è l'unico modo che noi abbiamo per sapere chi siamo ora saltando tutta la parte di quantistica che ti dice che esattamente l'universo è stato fatto così noi inconsapevolmente ci siamo creati l'universo con le pallette colorate nella testa comprendere questo vuol dire acquisire consapevolezza ed acquisire consapevolezza ha un significato preciso cioè fare in modo che il nostro lobo nel cervello la parte destra e la parte sinistra o parliamo più propriamente di emisferi siano coerenti tra di loro cosa vuol dire coerenti no siamo d'accordo siamo coerenti fatto un discorso coerente no vuol dire di più vuol dire che sono caratterizzati da una vibrazione e questa vibrazione sia per l'emisfero destro che per l'emisfero sinistro sono identiche cioè il nostro cervello non ha più un piano di dissimmetria che divide il blu dal rosso come diremmo noi nel test ma ci sono da mezza parte di qua e da mezza parte di là mezza parte di coscienza trasparente e mezza parte di coscienza trasparente cioè il nostro cervello ha acquisito un piano di simmetria acquisire il piano di simmetria vuol dire che il secondo principio della termodinamica dove si dice che l'entropia aumenta sempre l'entropia che ha a che fare con la geometria del sistema e con la sua simmetria ti dice l'entropia è aumentata perché ha aumentata la simmetria ma l'entropia ha un aggancio con un'altra cosa che è la consapevolezza di sé l'entropia è legata alla consapevolezza di sé da formule matematiche e questo è facile provarlo no l'entropia è sostanzialmente qualcosa che ha a che fare con l'energia ma l'entropia è qualcosa che ha a che fare attraverso l'equazione di Shannon l'informazione è evidente che più informazioni hai più consapevole sei quindi la consapevolezza e la coscienza cioè l'entropia sono sostanzialmente due cose correlate insieme quando uno fa il tria dei color test ha messo in risonanza la parte maschile di sé con la parte femminile di sé quindi non essendoci più piani di simmetria il miracolo ed il miracolo qual è? la prima cosa che succede è che ti butti la televisione dalla finestra cioè non ti fidi più di quello che la televisione dice comprendi quello che prima non avevi compreso che te stanno a peracottà direbbero a Roma cioè qualcuno che tenta di governare le cose tenta di farti capire anche che le cose sono come vuole lui e ti abito a fare questo perché a scuola scopri che non ti hanno insegnato la verità ma che ti hanno insegnato a pensare come tu dovevi pensare per non creare problemi a chi governa allora riacquisendo la consapevolezza di sé all'interno della propria coscienza il mondo in un milionesimo di secondo ti si apre e porca puttana accade un miracolo tu non sei più quello di prima certo uno può avere paura perché avere paura di abbandonare se stesso in qualche modo però questa cosa siccome non costa nulla non passa attraverso un interlocutore che è lo psichiatra lo psicologo o lo psicoanalista che alla fine produrranno dei danni irreversibili nel tuo cervello non produce questo tu non usi la loro consapevolezza per fare il cammino di consapevolezza il cammino di consapevolezza è un processo personale te lo devi fare da solo cosa dico io cosa vado dal medico e gli dico dottore sono malato mi guarisca il dottore non ti guarisce ti dice come te devi guarire come devi fare per guarirti l'avrò detto mille volte ma sembra che non basti mai ecco questo è sostanzialmente il tria dei color test tria dei color test che tutti coloro che sono riusciti a farlo hanno raggiunto questi obiettivi tu sai chi sei per un istante tutti coloro che cercano di farlo ma non ci riescono che ci sono esistono e anche nei commenti diversi esatto esistono hanno un problema che a volte è risolvibile a volte no e questo è il limite del sistema guardate che per sapere come funzionano queste cose bisogna saperne i limiti se no non si va da nessuna parte allora un limite i limiti sono quasi sempre superabili tranne in un caso uno può essere cenestesico o totalmente auditivo e quindi non riesce a vedere nella testa i colori è banale in questo contesto usiamo il canale cenestesico e il canale auditivo cioè è semplice andiamo nella stanza che sarà buia e camminiamo tanto non potremmo inciampare su nulla perché non ci sono mobili nella stanza è vuota a un certo punto se inciampiamo su qualcosa sono le nostre sfere quindi le abbracceremo le toccheremo nell'istante in cui le tocchiamo e sentiamo se sono calde fredde ruvide lisce possiamo chiedere alla sfera di accendersi abbiamo usato un trucco abbiamo usato il canale cenestesico che è il nostro canale principale dopodiché il soggetto acquisisce in quell'istante inconsapevolmente la consapevolezza che può usare anche il canale visivo e da quell'istante non lo perderà più il canale visivo dovete sapere infatti che dopo il triade con l'orchest chi è totalmente cenestesico diventa 33 33 33 cioè non massone 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 come qualcuno potrebbe pensare ma auditivo visivo e cenestesico contemporaneamente no questo lo dico perché c'è sempre qualche coglione che fa questo tipo di commento oppure noi siamo auditivi se siamo auditivi e non vediamo nulla come se avessimo un telecomando in mano chiediamo alla sfera della mente di emettere un suono il suo suono un suono qualsiasi sarà una nota e siccome siamo nella stanza andiamo verso il suono con l'udito cerchiamo di trovare la sfera nell'istante in cui ci sbattiamo contro possiamo chiedergli di accenderla e lei si accenderà perché abbiamo in quel caso attivato il canale visivo così per le altre sfere e così possiamo sviluppare lo stesso il test arrivando alla fine questo si può risolvere seconda probabilità il soggetto ha problematiche di adduzione questo si vede quando le sfere sono di colore invece di essere blu scusate verde rosso e blu sono blu rossa e verde cioè sono cambiate di 120 gradi i vettori i colori sono ruotati basta una sola sfera di un colore diverso ma sempre nel gruppo RGB per dare l'idea che il soggetto è totalmente addotto una sola sfera le altre due potrebbero essere di colore giusto almeno una di colore giusto e le altre due di colore sbagliato ma sempre invece di essere rosso e blu per esempio spirito e anima sono blu e rosso una caratteristica fondamentale che possono avere anche coloro che hanno difficoltà ad identificarsi sessualmente ma il problema si risolve perché quando ti dico metti la mano dentro la sfera la sfera blu deve essere che è sempre femmina se la sfera blu che è femmina ti dice sono maschio vuol dire che c'è questa problematica ma il colui che è confuso sessualmente non cambiano i colori anima è sempre blu quello che cambia è l'archetipo del maschile e del femminile dentro se stessa come poi ho riscritto nel libro comunque se qualcuno se lo vuole andare a vedere c'è quindi l'alieno che è all'interno del tuo cervello perché è lì non vuole che tu fai il test e non ti fa vedere niente è come se ti mettesse un velo nero davanti e non vedo niente non c'è niente da vedere allora l'alieno ha una caratteristica fondamentale è scemo lo so che può sembrare incredibile l'alieno ha la tecnologia ma tutti coloro che hanno la tecnologia più tecnologia hai più scemo sei te pensa a un ragazzo di 18 anni che è 24 ore al giorno che tiene il telefonino e ti renderai conto esattamente di quello che dico e con l'alieno c'è la tecnologia cioè è completamente vuoto nella testa non ha un minimo di fantasia lo puoi aggirare accendi la luce nella stanza nell'istante in cui accendi la luce tutto sarà bianco e tu vedrai esattamente delle cose vedrai che c'è qualcuno che ti mette davanti uno schermo che non vuole che tu guardi oppure tu strappi lo schermo fai qualcosa cambia qualcosa fai usa un trucco in tante scusate se l'interrompo ma te conferenze ma anche alcune domande che vedo qui nei commenti mi è capitato di sentire eh ma sì ma comunque io non ci riesco e però adesso l'ho sentito l'altra settimana non so quando l'ha detto aveva detto una volta sì però usate creatività nel senso se avete io mi chiedevo ma non avete anche una questione di scelta nel senso se io scelgo di farlo vuol dire che posso farlo lo faccio non basta la creatività non basta non basta in questo senso sapete quante persone conoscete che vogliono smettere di fumare e non ci riusciranno mai ecco anch'io voglio smettere di fumare e non ci riesco cioè ah io voglio farlo certo che voglio fare allora prendiamo questo esempio e portiamolo nel caso della psicanalisi dottore mi guarisca c'ho sto problema non so mio marito mi ha lasciato dal giorno in cui mi ha lasciato non sono più me stessa non riesco più a fare le cose mio marito mi ha lasciato uno stronzo mio marito mi ha lasciato e te cominci a fare le sedute di psicanalisi quando il soggetto si rende conto che lo psicoanalista la sta guarendo il soggetto dice grazie dottore sono quasi guarita grazie arrivederci e scappa per quale motivo? perché non ha nessuna voglia di guarire perché il soggetto in questione ha una identità che non vuole perdere l'identità del malato si accorge che il dottore gli toglie l'identità del malato e lui sarebbe costretto a riprendere o lei l'identità che aveva prima cioè del coglione perché inconsapevolmente lo sai che sei coglione no scappi c'è un loop il loop è molto semplice anche per le persone estremamente coscienti questo loop è tremendo è una tagliola il loop ti dice sono malato punto numero uno la malattia me la sono prodotta io perché so che io sono il creatore dell'universo posso guarire step 3 per guarire devo comprendere la mia malattia step 4 per comprendere la mia malattia devo rivivere l'istante in cui mi sono ammalato step 5 voglio rivivere la malattia e voglio risoffrire un'altra volta no sono malato e si ricomincia da capo questo è ciò che accade e accade anche nell'entrata con lo test sì non ci riuscirò mai la programmazione neurolinguistica ti dice guarda non venire più da me perché tanto te non guarirai mai per quale motivo non perché io programmatore neurolinguista non sia buono ma sei te che non vuoi effettivamente guarire quindi prima guardati dentro poi torna c'è l'ultimo quindi tutto è risolvibile fino a qui è tutto risolvibile quello che non è risolvibile è quando il soggetto ha dotto o no che ha quindi delle problematiche sulla unificazione delle sfere perché non riesce a vedere le sfere o le sfere sono di colori allucinanti come il magenta che viene fuori quando uno è veramente un caso psichiatrico la mente magenta è la fine in quel contesto quando è che non si può fare niente la mia personale esperienza poi mi direte che mi sbaglio quando il soggetto si è abbondantemente drogato e ha fuso i suoi neuroni a quel punto non vi ci mettete più perché perdete del tempo il soggetto che si è abbondantemente drogato per una quantità di tempo superiore a quella necessaria per poter evitare che il cervello gli andasse in fumo è finito io non è che voglio fare un discorso ma no ma qui ma là questo è quello che succede da un punto di vista statistico non vi ci mettete perché è inutile vi farà perdere del tempo va detto anche siccome io miracoli non li so fare questo miracolo non l'ho saputo fare ecco diciamo così è come questa è stata la sua esperienza abbiamo chiesto di parlarci proprio per sapere la sua ma per il territorio esperienza e il punto di vista la mia esperienza che è per esempio anche un'esperienza di colui che ha insegnato per più di 40 anni forse 45 a tutti i livelli non solo all'università ma anche alle scuole elementari perché facevamo la sperimentazione su come insegnare trasportare il modulo di scienza ai bambini piccoli la mia esperienza oggi mi dice che se un ragazzo usa il telefonino e glielo dai quando è all'elementare quando è arrivato a sette anni e mezzo è completamente rincoglionito non è più recuperabile quindi oggi io vi dico ci troviamo di fronte a una società di giovani completamente stupidi totalmente irrecuperabili quindi è evidente che questa gente qui non può fare il tct perché perché prendiamo l'esempio del telefonino ma potrei dire della televisione oppure di questi input esterni allora il cervello deve essere abituato a produrre il triade color test che è un insieme di immagini mentali che tu col tuo atto di volontà produci in una parte di cervello che Coslin che era un neurofisiologo diceva è la stessa parte del cervello che sostanzialmente mi fa vedere l'universo olografico esterno se io quella parte lì non la uso ma uso solamente la parte esterna cioè come una spugna assorbo informazioni dall'esterno in continuazione quando tolgo le informazioni dall'esterno scopro per un attimo di terrore che il mio cervello non è in grado di strutturare informazioni interne cioè non sono più capace di pensare di immaginarmi un suono di immaginarmi una musica di immaginarmi una immagine il mio cervello è completamente cotto in quell'istante l'establishment ha vinto perché ti nutre attraverso il suo telefonino e tu hai perso completamente il controllo di te stesso non c'è più niente da fare questa è la società di oggi quindi perché non riesco a fare il tira de color test è perché hai guardato troppo il telefonino e cosa faccio chi fa così poi viene da me e mi dice te hai studiato un sistema sbagliato che non funziona te dici che funziona ma non è vero perché noi tendiamo sempre con la nostra inconsapevolezza ad avere bisogno dell'esterno degli altri di coloro che servono per darci una colpa non è colpa mia se mi hanno licenziato mi ha licenziato il mio capo che era uno stronzo non è che pensi sì in realtà il capo ti ha licenziato perché te è un lavorato potrebbe essere anche così no guarda non so se no ne licenziamo un altro no così noi ci siamo creati gli dèi noi ci creiamo gli dèi esterni quando noi facciamo il triade color test all'interno quando facciamo la fusione delle tre sfere ogni tanto compare qualcosa che ti dice io sono il tuo protettore io sono il tuo angelo custode io sono colui che ti vuole governare io sono colui che ti vuole salvare io sono non salvare lascia sta vattene via che cazzo ti vuoi da me io sono io io sono il creatore di me stesso non ho bisogno di crearmi un dio a cui affidare la responsabilità di tutta la mia vita se che vada bene e che vada male demoni e diavoli la colpa è il merito di tutto ciò che accade no la colpa è il merito è solo il nostro quando noi non siamo in grado di acquisire questa consapevolezza dobbiamo creare all'esterno quella parte di noi che noi non conosciamo ed ecco che ci creiamo gli dei che ci creiamo i demoni che sono coloro che sostanzialmente esistono veramente perché li abbiamo creati noi e questo è il perché perché noi siamo i creatori dell'universo ma quindi questo lettore di ologammi in realtà è anche un creatore di ologammi assolutamente sì perché noi ci creiamo l'universo come crediamo che esso debba essere creato e questo ci viene addosso ogni giorno esempio noi prima di andare a scuola siamo abbastanza salvi il bambino piccolo quando non è andato a scuola è egoico ed è egoico di un egoismo sano cioè lui crede di essere il centro dell'universo e crede questo perché dove era di là dall'altra parte prima di venire qua sapeva che era così viene qua e inconsapevolmente si ricorda di quando era di là il centro dell'universo nell'istante in cui va a scuola gli si comincia a insegnare che esiste la dualità i buoni e i cattivi la lavagna di design 2 dà un gesso e la maestra scrive il nome dei buoni e il nome dei cattivi dall'altra parte eppure ci sono quelli che prendono voti alti quelli che prendono voti bassi ci sono quelli che la maestra rigarmano e quelli che gli sono antipatici ci sono i maschi e le femmine ecco che nasce l'idea di duale di competizione di buono e cattivo quando si acquisisce la consapevolezza di questo ecco che noi ci creiamo inconsapevolmente all'esterno l'universo come crediamo che noi esista e questo ci viene addosso tutti i giorni perché noi dobbiamo capire che non è così guardando l'esterno dobbiamo comprendere cosa c'è di noi che non va quindi quando noi abbiamo fatto il triade colortesti abbiamo unito le sfere comprendiamo che la dualità esisteva solo nell'idea di farci passare un'esperienza duale per farci capire che la dualità non esiste perché noi siamo uno ma per capire che siamo uno dobbiamo fare l'esperienza della dualità ma una volta che abbiamo capito questo ecco che Mario Draghi non mi appare più cattivo perché non ci sono i buoni e cattivi Mario Draghi mi appare scemo cioè inconsapevole un essere vuoto totalmente di cervello che poverino non lo devo ammazzare perché così me lo tolgo dalle scatole ma lo devo compatire questo cambia tutto il paradigma nell'istante in cui capisco questo non mi rivolgo più all'esterno con la minaccia di vi faccio fuori tutti se non fate quello che dico io nelle riunioni di condominio si vedono delle scene che sono allucinanti nelle riunioni di condominio e poi questi stronzi vogliono fare l'Europa Unita no? ecco prima bisogna fare la comunione tra la parte animica e la parte spirituale per esempio i rapporti di grande difficoltà che un maschio ha con la femmina o viceversa sono i rapporti in realtà di difficoltà che la mia parte spirituale ha con la mia parte animica in questo contesto per chi fa e si approccia a fare il crea dei color test guardate la vostra famiglia guardate per esempio i vostri genitori perché voi siete i creatori di quella comedy i vostri genitori maschio e femmina ancora per un po' lo saranno maschio e femmina sono la rappresentazione della vostra parte animica della vostra parte spirituale guardate i vostri figli guardate i vostri animali domestici chi ha il gatto chi ha il cane chi ha tutti e due loro sono la parte spirituale maschile e femminile perché il cane è l'amico dell'uomo il cane è l'amico dell'uomo perché è auditivo cioè è la fedeltà è quello che ti viene dietro è quello che si fa comandare figurati se il gatto si fa comandare il gatto è la parte maschile del sé ed infatti è l'amico del femminile storicamente in tutte le leggende ciò è così e uno pensa che la femmina il gatto quindi sia una stessa cosa è il contrario tu ti crei quella parte di te all'esterno con la quale hai bisogno di confrontarti per capire è come qualcuno quando fa un'opera d'arte un quadro ecco quel quadro lì sei te ma non sei te quello che sai di te sei te quello che hai estroiettato fuori cioè quello che vorresti che il quadro ti dicesse guarda una delle cose più eclatanti è nella storia il ritratto di Dorian Gray Dorian Gray nel romanzo non vuole morire cede l'anima al diavolo e al suo posto invecchierà il suo quadro ed ecco che il suo quadro gli parla gli dice delle cose e alla fine che cosa succede? che vince la consapevolezza Dorian Gray dice no vivere in eterno due palle allucinanti per favore il diavolo ridammi la parte animica perché io voglio morire e che significato ha ridammi la parte animica la parte animica la parte animica è un gruppo di tensori e di vettori ma che ha la caratteristica fondamentale di non avere il tensore del tempo l'assi del tempo la parte animica chiedetelo alle vostre tre pallette è immortale solamente riacquisendo l'immortalità tu puoi continuare a fare l'esperienza che si concluderà con la morte perché se te non fai l'esperienza della morte non puoi capire che la morte in questo universo non esiste e l'esperienza della morte la devi fare tutto questo lo capisci quando fai il triade color test io parlo anche per esperienza personale perché io il triade color test non lo volevo fare te sembra strano io lo facevo fare agli altri non sembra strano io lo volevo fare agli altri perché lo volevo far fare agli altri perché io ero lo psicoanalista di turno quindi credevo che ci fosse il processo di transfer e di contro transfer che lo psicoanalista dovesse rimanere distaccato perché se no viene intrappolato dal processo di transfer nell'istante in cui io mi convinco che devo farlo perché io devo fare l'esperienza il mondo mi si è aperto in due ho capito in quell'istante perché la coscienza si è divisa in due si è divisa perché doveva fare l'esperienza che è come se la coscienza creasse il coltello e poi dicessi al coltello tagliami in due perché non so che cosa cazzo ho creato bisogna passare attraverso l'esperienza questa è una cosa fondamentale la coscienza e la manifestazione della coscienza sono la stessa cosa perché la coscienza è invisibile se non si rende evidente dal fare tutto ciò che fa si vede tutto ciò che sta fermo è invisibile anche alla fisica quantistica pensate non interagisce con l'universo può esistere ma non lo vedi ecco in quel contesto si capisce che la coscienza ha bisogno di fare ha la necessità di capire quella parte di sé che non capisce e come ha fatto ci ha preso ha creato dei contenitori che sono i nostri corpi e dentro ci ha messo se stessa divisa apparentemente in tre pallette guardate dico apparentemente non vi voglio confondere le idee le tre pallette appartengono alla apparenza perché la fisica quantistica moderna dice esplicitamente che l'universo è non locale cioè non esiste né lo spazio né il tempo né l'energia cioè tutto è accaduto accade e accadrà in un unico istante questo che noi stiamo vivendo ora è lo stesso istante dell'inizio del tempo ed è lo stesso istante della fine dell'universo in quel contesto il tempo non ha senso lo ha per noi perché il nostro cervello è stato creato in modo da credere che esista il tempo che ci permette di fare l'esperienza è come guardare un film hai due ore di tempo per guardare questo film ma sappi che al di fuori della sala cinematografica il tempo non esiste quando esci dalla sala cinematografica e il tempo tornerà a essere zero ti ricorderai poi però di quello che hai visto nel film e quindi in qualche modo avrai compreso noi entriamo nella nostra stanza mentale vediamo le tre pallette perché? perché noi crediamo che le tre pallette siano divise perché noi crediamo quello che abbiamo creato noi crediamo di essere divisi in tre perché così ci hanno detto a scuola noi nell'istante in cui riuniamo le pallette è come se tornassimo all'uno cioè al punto di inizio del tempo ma ci accorgiamo subito dopo che le tre pallette sono sempre state unite e che noi le abbiamo viste divise solo perché noi siamo i creatori della nostra realtà e se noi vogliamo creare una realtà di divisione eccola lì sfornata davanti a noi nell'istante in cui acquisiamo la consapevolezza che siamo stati noi a fare questa divisione allora noi possiamo riunificare le tre pallette lì non c'è l'alieno che può fare qualcosa per impedirtelo perché la tua volontà è legata alla tua consapevolezza alla tua coscienza alla tua creazione sei te l'universo chi se ne frega dell'alieno capito? cioè potremmo anche dire chi se ne fregava di Mario Draghi e invece abbiamo visto che la gente se ne è proprio fregata e ha fatto tutto quello per paura che chi comandava gli dicesse qualcosa e l'errore è stato non avere consapevolezza che chi comanda sei te no lui ok adesso abbiamo fatto scoppiare un po' di teste è stato bellissimo per me le chiedo una cosa e poi passo alle domande del pubblico perché abbiamo sforato bellamente ma è stato bellissimo no ma è stato bellissimo fantastico parlando di contenitore ce lo siamo creati abbiamo scelto di fare l'esperienza in questo contenitore quindi avrà magari anche una sua utilità sì 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 allora il contenitore serve non si può fare questa esperienza senza contenitore cosa vuol dire? l'universo è fatto in diversi modi in diversi piani che sono legati a piani energetici il nostro livello che nel mito viene identificato come il settimo livello ma sostanzialmente questo mi ricorda i sette livelli energetici della tabella periodica di Mendeleev i sette colori dell'arcobaleno i sette chakra le sette note e così via sette questo numero ha un suo significato simbolico ma forse va oltre il simbolo ecco in questo livello è il livello in cui c'è più separazione nei primi sei livelli c'era la coscienza la coscienza separata un po' più separata un po' più separata un po' più separata nel sesto livello ancora il maschile e il femminile si stanno staccando come un elastico teso qui sono completamente staccati il maschile è una cosa il femminile è un altro e per fare questa esperienza è necessario un corpo dove estrinsecare il maschile e il femminile in due emisferi uno destro e uno sinistro per cui se dobbiamo fare se vogliamo fare l'esperienza totale dobbiamo oltre a che aver fatto l'esperienza negli altri livelli venire qui e fare l'esperienza finale accettare di essere completamente separati un inferno vero e proprio infatti si parla molto nei venti di la sofferenza è necessaria la coscienza non è necessaria la coscienza la sofferenza la sofferenza è necessaria la sofferenza non è necessaria ma aiuta molto diciamola così allora facciamo un esempio banale io c'ho da andare da Roma a Milano da A a B e faccio il percorso più semplice quello che non mi costa niente se allora gli esseri umani fanno invece dei percorsi che sono un po' più tondi che si staccano si allontanano sempre di più dal percorso base ecco in ogni punto l'allontanamento la distanza dal percorso che ti stai facendo al percorso più corto quella è la sofferenza cosa vuol dire questo questo è un punto di vista geometrico visivo vuol dire che non è necessario soffrire per imparare ma la sofferenza porta a una più rapida ad un più rapido processo di di acquisizione di consapevolezza perché è talmente a volte non sempre talmente dura talmente forte talmente tremenda che te dici ma perché lo devo rifare un'altra volta e allora cerchi a quel punto se ne hai consapevolezza e coscienza di rimediare ci sono alcune persone che invece quelle che fanno il loop hanno paura che il processo di guarigione sia più doloroso della sofferenza ed è per quello che continuano a soffrire però noi ci ricordiamo della nostra vita molto di più i momenti di sofferenza che non i momenti di gioia e questo vuol dire che il cervello nostro è fatto in modo tale da fare così cioè la sofferenza è evidentemente utile per imparare qualcosa almeno questa è la mia esperienza perché io potrei dire le mie sofferenze più gravi più grandi sono stati a scuola quando non riuscivo a capire una mazza di quello che i miei professori i miei insegnanti i miei maestri mi dicevano io non capivo e guardavo gli altri che sembrava che capissero solo a lungo andare ho capito che loro fingevano di capire che quello che giustamente non aveva capito perché gli avevano insegnato male ero io take it till you make it è sempre una regola che nel sistema funziona benissimo ma possiamo quindi nella sua mappa del territorio nella sua esperienza fare esperienza in maniera più facile in maniera più divertente nel senso io ho trovato che la meditazione le simulazioni mentali alcune praticanti fisiche tai chi cose di questo tipo mi facilitino l'esperienza l'acquisizione di consapevolezze sia non di una lunga più divertenti sì questo ha una ha una ha una sua motivazione e anche una sua limitazione la motivazione è che sostanzialmente ci hanno sempre insegnato a guardare fuori di noi per capire il mondo questa regola ha un suo significato una sua realtà perché noi siamo i creatori dell'universo non ce lo ricordiamo crediamo che il creatore dell'universo sia una specie di vasaio che ha creato il vaso il vasaio non si sa più dove è andato e allora noi cerchiamo di guardare l'opera il vaso per capire come era fatto il creatore e mano a mano che studiamo l'universo la fisica quantistica scopre che i creatori siamo noi quindi guardare all'esterno serve guardare all'esterno serve perché noi vediamo la parte di noi che non abbiamo capito nell'istante in cui facciamo il trio dei color test e abbiamo unito le tre sfere si scopre nella maggior parte dei casi che scompaiono le pareti e uno vede l'universo fuori e ti dice ho visto l'universo e io gli dico non hai visto l'universo hai visto te stesso quello sei te ah già mi torna mi torna bellissimo però c'è un piccolo problema che facendo così chi comanda pone l'accento solo sul fuori cioè sulla parte che te non conosci di te e quindi non troverai mai il vero te stesso il vero te stesso si trova da un'altra parte dove dentro di te dove tutti ti dicono non guardare perché ti perdi cioè la chiesa cattolica ti dice no come si chiama il padre quello argentino il papa nazista ecco Bergoglio ex nazista ora si sa bene cosa dice non affidatevi a un percorso personale di acquisizione di consapevolezza interna ma affidatevi alla figura di Gesù Cristo che per gli studi che io ho fatto altro non era che la traslazione la trasliterazione dell'alieno lux cioè di una roba che è meglio non prendere neanche in considerazione beh quindi guardare dentro di noi lo facciamo come? Con l'unico mezzo che sappiamo cioè con la meditazione qual è il rischio della meditazione? C'è più di uno il rischio della meditazione è quello che uno si droga con la meditazione sta sempre a meditare perché quando apri gli occhi guarda il mondo fuori che gli fa schifo e allora lui richiude gli occhi e si fa una bella droga di meditazione questo è il primo aspetto della questione un po' alla Buddha Buddha ha fatto così no? si è seduto sotto l'albero ed è ho capito tutto rimango qui basta ora non faccio più niente no noi siamo oltre Buddha Buddha si deve alzare come ho detto prima io capire quello che lui crede di aver capito ma che scoprirà nel fare che non ha capito perché se lo aveva capito era disintegrato da questo universo non c'era più perché non aveva più necessità di stare qui se Buddha sta qui è perché la sua coscienza vorrebbe disperatamente fargli capire quello che lui ancora non ha capito è Buddha questo dico io Buddha e poi c'è l'altro rischio che è l'ultimo quello di usare un tipo di meditazione che tecnicamente ti svuoterebbe il cervello solo perché così dentro c'entra dell'altra roba che non è tua e ti dominerà da lì a sempre come un muratino lì bisogna stare molto attenti perché il triade color test non prevede e non permette che questa cosa accada anzi se c'è qualcosa dentro di te te lo butta fuori sì avendo fatto il triade color test sì nel senso mi ritrovo perfettamente effettivamente anche con con la coerenza che sono due cose completamente diverse però come tecnica anche non c'è il rischio di far entrare il problema della la cosa che può essere unita unico come si dice identica al vostro tipo di meditazione è una cosa che è un parametro i fisici chiamerebbero parametro nascosto cioè il fare qualcosa che produce uno stato che si identifica geometricamente nel universo come una vibrazione di opportuna frequenza che non solo ti equalizza il lobo destro e il lobo sinistro e sapete cosa vuol dire il lobo destro e il lobo sinistro non so se ci avete mai fatto caso ma se ti viene un ictus al lobo sinistro ti puoi salvare se ti viene un ictus al lobo destro sei fregato perché il lobo destro è quello anche che sistema il movimento del cuore questo cosa vuol dire che il movimento del cuore sia nella medicina nella fisiologia nella fisica nel mito il cuore è legato alla parte animica e tutto quello che noi stiamo tentando di fare oggi come società che guarda dentro di sé è ritrovare quello che lei ha perso di sé la parte femminile senza la parte femminile in questo universo non si va da nessuna parte e quindi il maschio e la femmina devono riscoprire la parte femminile di sé lo dico anche e di integrarla e di integrarla con la parte maschile certo quindi il cuore è la rappresentazione della parte femminile perché il cuore era anche secondo gli uomini della pietra e anche secondo Jung il posto dove risiede l'emozione per quale motivo perché la parte emotiva è la parte animica cioè il femminile non la parte spirituale che la sua emozione in realtà la produce come sentimento sentimento ed emozione sono due cose differenti l'emozione non è causale né casuale il sentimento invece sì è una causa ed un effetto sentimento maschio io ti do un pugno tu mi dai uno schiaffone emozione io guardo il tramonto e piango non c'è una ragione questa è la parte femminile che è distaccata dal movimento del tempo è questa che deve essere riconosciuta perché dentro la parte femminile c'è l'istruzione della immortalità nel mito l'immortalità è dovuta pensate ma anche nel film di Dan Brown c'è questa cosa quando Gesù Cristo scappa secondo Dan Brown in Francia e affonda fonda la stirpe dei Merovingi che è ovviamente il re di Francia si voleva far credere che fosse discendente di Gesù quindi si era trovata anche una bella cosa da raccontare la stirpe dei Merovingi e il mito del sangue real del sang real del sangral del santo graal in realtà si scopre che è la femmina che produce sempre femmine che hanno dentro di loro quella caratteristica tanto è vero che il buon la buona cultura cattolica italiana che ha condannato quel film il Vaticano lo ha condannato e ha scomunicato il fautore del film non perché Gesù avesse avuto un amplesso sessuale con la Maddalena ma questo te lo raccontano loro ma è perché la verità viene fuori cioè è il femminile che contiene quella cosa il maschile deve usare quella cosa ma deve non dirlo al femminile perché se il femminile sa che è lei quella che conta per l'immortalità allora il femminile prende gamba e dopo vuol comandare lei ecco tutta la chiesa maschilista dell'universo del mondo è stampata su questo stampino ma non solo la chiesa il femminile non deve prendere consapevolezza è ovvio è così e questo lo si vede camminando tutti i giorni andando in giro e parlando con le femmine che non sono donne perché c'è una bella differenza come il maschio e l'uomo di maschi ce n'è tanti ma di uomini vi posso assicurare ce n'è pochi cioè è un problema di consapevolezza la femmina l'80% delle femmine di questo pianeta noi l'abbiamo visto anche con le ipnosi l'80% delle femmine è maschio cioè c'ha una parte spirituale estremamente sviluppata e mentale è una parte animica rilegata in una stanzetta del cervello che ha paura di venire fuori questo era quello che veniva fuori questo era vedi lei nel frattempo sta muovendo gli occhi in un certo modo perché si sta ricordando ma questo è ok certo ok abbiamo fatto tardio quindi io invito Claudio che è il mio collega volontario che aveva la prima domanda dal pubblico volentieri e intanto io mi tolgo un attimo che riguardo le domande una domanda magari scelgo la migliore per tra poco a tra poco ciao a tutti siamo salutati prima le volevo chiedere noi stiamo facendo anche noi percorso esperienziale di vario tipo come dicevo prima abbiamo assieme ad Enrico Bussolaro e Nicoletta Cagliotto lavorato sull'informazione dell'acqua sotto vari aspetti con queste card per entanglement abbiamo trasferito le informazioni ok e ora abbiamo avuto anche riscontrato dei successi in questo e stiamo andando oltre il lavoro sulla consapevolezza che lei dice quanto può aiutare un individuo nel suo involucro a recuperare una malattia di qualsiasi tipo essa sia nel senso che sappiamo che la malattia viene sempre per darci un avvertimento come abbiamo sentito anche da lei prima quindi è una benattia se vogliamo cambiargli il nome quanto un individuo arrivando alla propria consapevolezza è in grado di fare alza di etanamina per dire dunque io dunque dunque si conclude un discorso in realtà io lo comincio la mia esperienza mi dice con la consapevolezza acquisita e quindi con una coscienza abbastanza ben integrata la guarigione dalla malattia qualsiasi essa sia è immediata cioè 40 secondi immediata su cosa mi baso mi baso sulla sperimentazione cioè quando noi abbiamo fatto dei percorsi e io lavoravo sul problema delle adduzioni quindi facevo molte ipnosi i soggetti che erano venuti fuori dall'ipnosi erano abbastanza integrati anche se allora noi non usavamo il tiro di color test ma l'ipnosi che è qualcosa di meno efficiente devo dire del TCT bene alcuni soggetti mostravano facoltà erroneamente chiamiamo paranormali elevate elevatissime quindi riuscivano a fare delle cose molto semplici come potevano essere cambiare il canale della televisione senza telecomando no? ma potevano essere cose anche molto più interessanti cioè salvare un soggetto malato semplicemente immaginando creando nella propria testa l'immagine del fatto che la propria zia che ha il tumore e che sta per morire sia in qualche modo salvata ciò che accadeva era che il giorno dopo la zia ricoverata in ospedale il tumore inoperabile era diventato un nottolino piccolo così che quindi è stato operato ed è guarita perfettamente non succede una volta sola questa cosa qui succede volte e volte questo mi fa capire che se è successo può risuccedere ecco qual è la problematica altre volte è successo il contrario cioè quando una persona voleva salvare un'altra persona non è quindi immaginato che la sua parte animica o la sua coscienza venisse a parlare con l'altra coscienza e in questa fusione si creasse la guarigione perché la guarigione si crea proprio per quando te e l'altro sei la stessa cosa perché te diventi un essere solo in quell'istante l'altra parte diceva no io non voglio essere guarito io devo fare le esperienze della morte per favore lasciami stare vattene è successo anche questo quindi questo va preso va tenuto in considerazione nella più modesta situazione nostra io vedo chiaramente che noi possiamo guarirci dai disturbi dalle malattie dalle cose con le simulazioni mentali cioè io mi metto lì e su me stesso o sull'altro produco questa variazione della realtà virtuale che io ho creato mi viene meglio con gli altri mi viene peggio con me stesso lo dico non tanto per me ma per tutti perché è così funziona in questo modo perché noi dobbiamo fare l'esperienza quindi a un certo punto dovrò fare l'esperienza della morte quindi in quell'istante anche se io mi volessi guarire potrei essere il più grande coscienziato del mondo ma non mi riesce perché io devo passare attraverso quell'esperienza è giunto il momento e quindi lo faccio e quindi non sarei più in grado di guarire grazie grazie sì sì mi ricordi mi ricordi mi ricordi allora professore perché rigettare l'esperienza cosa significa perché ci si trova a rifiutare in tutti i modi di fare esperienze di ogni tipo nella vita quotidiana in questa dimensione spazio-tempo questa è una domanda ma riflette poi un'altra domanda che era stata fatta prima riguardo a questa persona che vive ma non rifiuta l'esperienza certo noi viviamo in un contesto sociale in cui tantissime persone oggi rifiutano l'esperienza e la rifiutano in tantissimi modi alcuni abbastanza lucidi psicoanaliticamente parlando e altri molto meno per esempio colui che si droga si droga sempre perché rifiuta l'esperienza rifiuta l'esperienza perché solitamente ci sono molti motivi per cui uno si droga per buttarsi in un mondo di sogni in un mondo alterato in un mondo che non gli faccia non gli porga davanti non gli porti davanti la realtà di se stesso chi è colui che fa questa cosa qui cioè la maggior parte dei giovani d'oggi che sostanzialmente hanno paura i giovani d'oggi per esempio non ha paura di cascare per la strada scivolo e casco ha paura che tutti se scivolo e casco rigano e questo cosa vuol dire che la maggior parte della gente non ha avendo consapevolezza di sé non sapendo quindi chi è sostanzialmente ma neanche dal punto di vista del maschile e del femminile ora quindi gli conviene dire io sono tutti e due proprio perché non ha consapevolezza di sé ha paura di essere sbeffeggiato non accettato dagli altri il problema dell'accettazione che è legato sempre alla idea sono quasi sempre non vera che te sei un cretino allora l'accettazione di questo passa per non voglio uscire neanche di casa mi chiudo in camera mia ci sto 24 ore al giorno non penso magari uso anche il telefonino così faccio pensare il telefonino al posto mio ma tutte le volte che faccio qualcosa la devo fare come la fanno gli altri perché altrimenti non vengo accettato e se non vengo accettato siccome gli altri sono la maggioranza e la maggioranza è la cosa che per definizione ha sempre ragione io avrei torto e io non sopporto di avere torto un'altra e qui abbiamo già preso il 70% degli esseri umani su questo pianeta l'altro è io ho deciso di essere ricco io sono povero ma ho deciso di essere ricco porca cuttana o come mai non sono ricco e sono povero non la posso sopportare questa cosa qui e allora faccio di tutto comportandomi da ricco pur essendo povero e non c'è niente da fare muoio poverissimo perché quelle poche risorse che avevo le ho spese tutte nei primi dieci giorni di vita fottendomi di quello che sarebbe stato il mio problema l'undicesimo giorno non voler rendersi conto della situazione e è sbagliatissimo intervenire e dire guarda te stai facendo questo 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 sì lo puoi dire una volta dopodiché ti sei lavato le mani perché gliel'hai detto dopo non serve perché tanto non capisce ecco sì il non voler capire dilaga dilaga e crea una società di persone che non fanno il trial di color test perché fare il trial di color test vorrebbe dire porca puttana essere costretti dopo a capire ma se dopo capisco allora cosa faccio devo accettare la mia situazione guardate io credo una cosa fondamentale ma lo dico dal mio punto di vista a essere poveri o essere stupidi non c'è niente di male si sta benissimo non vedo questa grossa io chissà quante cose che io che non vedo io dico adesso faccio la splendida e dico sì no però faccio le cose che io non voglio vedere va bene ok cambiamo argomento un attimo allora allora chiedono riguardo a chi vede barra sente barra si accorge di quelli che normalmente vengono considerati gli spiriti dei trapassati che io tradurrei anche come entità di vario genere riescono veramente a vederli oppure sono sempre i lux che si spacciano per loro quindi è facile dopo che muore il contenitore allora nella prima parte si spacciano per loro sì ma te non puoi vedere il tuo nonno morto perché il tuo nonno morto non è più in questo universo è in una forma in questo universo che non è più quella allora in realtà il tuo nonno morto il tuo gatto morto nell'istante in cui muore la sua equazione d'onda torna a essere compartecipata con l'insieme del di tutto quindi il tuo nonno morto non lo troverai più fuori di te cercandolo fuori di te come immagine che ti compare di notte anche come il bisogno perché il sogno sovente è un bisogno di saziare una mancanza che tu hai che riproduci il surrogato del sogno non hai bisogno di cercare il tuo nonno morto fuori perché tu ora sei il tuo nonno morto perché l'equazione d'onda è tornata dentro di te quindi tu in quell'istante sei colui che prima vedevi in modo separativo come tuo nonno morto e che ora è dentro di te e che sei te prova a fare il triade color test a unificare le sfere e chiedere alla tua coscienza integrata dove è ora il mio nonno morto e vedrai che ti diverte ti divertirà la risposta ottimo quindi aspettiamo di chiederlo voglio solo fare un'ultima precisazione poi direi che ci possiamo salutare il triade color test sarebbe meglio leggersi bene un'ultima volta il foglio in tutto scritto chiudere gli occhi e farselo giusto? in un colpo solo senza farne metà ora un'altra metà domani ci vuole un quarto d'ora della vostra vita ce l'avete un quarto d'ora è gratis pensate non dovete prendere neanche l'appuntamento e in un colpo solo capite voi stessi quindi fate il TCT buono professore grazie grazie a voi e buonanotte a tutti speriamo di rivederci a presto a presto riuscirò a chiudere adesso lo passo ok lo stream l'ho terminato ce l'ho fatta